Il mercatino del calcite dei ragazzi è più forte anche del maltempo, anche se le previsioni meteo hanno fatto registrare alcune defezioni tra i partecipanti. Poco importa, il mercatino alla fine si è tenuto, la pioggia è arrivata ma soltanto nel tardo pomeriggio e non ha certo disturbato gli acquisti. L'incasso di quest'anno sarà devoluto al servizio scudo, assistenza di cure domiciliari ai malati oncologici. Quest'anno l'abbiamo dedicato al servizio di assistenza domiciliare, al servizio scudo che grazie ai contributi degli arretini è gratuito per i pazienti e noi sosteniamo un costo di 300.000 euro all'anno. A differenza di un macchinario questo è un servizio che vogliamo mantenere nel tempo e perciò vogliamo essere certi di avere le finanze per sottenerlo. L'incasso totale è stato di 65.500 euro e per aumentare gli incassi c'è già pronta l'edizione Amarcord che si terrà a giugno. Siamo anche contenti che grazie a questo mercatino oggi la città di Arezzo è viva.